4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 Un, due, tre, quattro, uno, tre, quattro, uno, tre, quattro, uno, tre, ballettare l'onesto, sei un palo, tre, avete finito di ballettare, è un schiaffinito? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1. Non contante più. 1, 4, 1. 4, 1. Siglo, contare! È possibile che ogni volta sei sempre qui dietro o sei indietro o aiuti qualcuno sta qua eh mi indietro e mi avanti qui comincio io uno due tre quattro uno due quattro uno due tre tre la riflessione è solo questa non è qualcuno quattro uno due due quattro 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 uno quattro due due one quattro uno 1 1 5 3 6 7 8 8 9 6 2 3 1 2 3 1 2 4 3 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 14 14 15 15 15 13 14 15 15 31 31 32 33 33 33 34 2, 3, 4, 3, 2, 3, 2, 1, possiamo iniziare con il mio compagno? non ho mai scusa hai chiesto tutto? se parli ancora esci hai chiesto tutto ok? provati a dire un altro ok? 1 1 2 4 3 3 3 4 5 6 6 7 8 8 8 8 8 8 9 9 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 18 18 19 18 19 20 20 20 21 22 21 22 22 22 23 23 22 22 23 23 24 24 24 25 25 25 25 26 26 30 29 30 25 25 22 25 23 23 24 23 25 26 25 26 26 26 27 21 27 No, non c'è. Non solo per fare il problema del tavolo, delle cose, serve per creare questo gruppo. Quando poi ci si chiede, ci diretti, la cosa più importante che succede, è che c'è l'assunzione. Quindi voi credo che imparate molto di più quando siete seduti e guardate gli altri che quando state lì e magari siete un bel pallone. Quindi qua, seduti, è ancora il gruppo. E questo si chiede. Il compagno che sta lavorando, voi ci fate tre ore di inizio, per prestare la vita. Quindi quando vi chiedete qua, ci sono battute, scambi, la lista, la volta, la volta, uno si segna gli accuntini, si chiede una cosa perché è appena detta, dopo di che dei colori vi succede, perché sennò tutto questo lavoro non avrebbe via. E questa è una cosa affascinata da osservatori. Noi osserviamo questo. Alcuni non hanno abituto di quello che sto dicendo, alcuni sì, avete un quarto d'ora e dopo portate il tempo e le notite. Grazie.